Claudio De Vincenti è stato qua, Claudio De Vincenti lo sapete, si occupa della coesione territoriale e del sud, Claudio De Vincenti è stato qui 4-5 volte, io ho avuto Graziano Del Rio che si occupa di infrastrutture, che è venuto 2-3 volte, ho avuto Martina, e lo avremo anche più tardi, con il quale abbiamo parlato dei problemi dell'agricoltura. Ma non ha avuto Renzi? Si è venuto, anche lui ha confermato il pieno appoggio e il pieno sostegno del Partito Democratico, però io ritengo che sia stato molto più importante che in questi due mesi, in questo mese e mezzo, ci siano stati sempre tutti i ministri del governo Renzi e poi Gentiloni. Senta, simbolicamente lei evita oggi anche il traghettamento privato, perché Luigi Genovese su un Corriere della Sera dice se passasse con noi dovrebbe pagare il biglietto. Non l'avrei pagato senza nessuna difficoltà, però voglio dire che è chiaro che la scelta è stata di Corriere della Sera.